Abbiamo organizzato questo murale con l'artista Sirelli che il Giro d'Italia 7 possa partire regolarmente da Meleto. Dopo diversi mesi con il Covid aspettiamo nuove disposizioni e la speranza è quella che tutto procede nel migliore dei modi. È un grande murale che ha realizzato Sirelli e assieme a questo ci stiamo organizzando per fare l'abitumazione di questa via Duomo, sarà tutta pavimentata in rosa e in più ci sarà la realizzazione di un monumento dedicato al ciclismo con la presenza del figlio di Coppe e di Gioia Bartali. Noi ce la mettiamo tutta, lo Sporting Club è tutto a disposizione per questo tipo di realizzazione. Auguriamoci che tutto proceda bene e che prossimamente possiamo dare nuovi ragguagli in merito. Grazie per la visione!